Siamo in Piazza San Babi, la Corsa Europa, quelli che vedete sono i vigili del fuoco che stanno rimettendo in ordine il telone di sicurezza che era stato montato questa mattina per mettere in sicurezza ed evitare l'insano gesto di un uomo classe 1969 che si era issato su questa impalcatura per chiedere il lavoro. L'uomo si è arrampicato su questa impalcatura che vedete intorno alle 10, a mani nuda, è salito lungo l'impalcatura arrivando ad un'altezza molto considerevole tanto da obbligare i pompieri ad utilizzare il telone di sicurezza per preservarlo da un'eventuale caduta o da un lancio. Collega quello? No, per carità. No, non era uno del cantiere qui? Sì, ma era uno del servizio fa, della prima ditta. Ah, della prima ditta. Ah, quindi era uno del cantiere. E che si lamentava di cosa? Lo sapete perché non mi hanno detto nulla? No, perché voleva i piccoli. Ah, perché non lo pagavano? Si è attaccato lì, nel conteggio. Ah, sì, nel conteggio. Ma che ora è arrivato? Lo sapete? L'interessore? No, ma è salito lui da solo, di testa. Ah, è salito proprio così, si è arrampicato. Ho capito, quindi era più una questione di soldi. Circa mezzogiorno, come vedete, la viabilità in corso Europa è ripresa regolarmente.